Selezione per enologo, dentro una mega villa, si presentano in 500, boh, facevano selezione dopo selezione, a un certo punto si presenta un contadino col cappello di baglia, la camicia mezza strappata, i pantaloni con le toppe, con gli svorti sulle caviglie, e le scarpe ancora piene di fango attaccate, o guardano, dice scusi ma lei, ma dove va? Fa la selezione, sono l'enologo, si guardano, lo mandiamo via subito, vabbè, se poteva vestire un po' meglio, vabbè non fa niente, guardi, facciamo subito la selezione, allora, ci dica le caratteristiche di questo rosso, le danno un calice con il rosso, questo gira, annusa, assaggia, fregnape, questo è in San Giovese, anno 1983, bari 84, e chi c'aveva il compito di sfragnare l'uva, c'aveva i piedi suzzi, ammazza, c'abbè, ma fatalità, fatalità, c'è adesso ci assaggi questo bianco, e danno il bianco, gira, annusa, o riguarda, l'altro sei guardato, c'è un sacco, c'è un sacco, questo sbaglia, assaggia, fregnape, questo è un verbenino di Sardegna, dalle parti del barabisa porto un piccababbo per un sordo, è, annata 1991, bara 92, però è stato mischiato con 3,4% dei ghiandi, ammazza, ma come cazzo lo fa questo? Aspetti un attimo, via il calice, va in cucina, ma rì, mi puoi fare un cucetto di pipì dentro il calice, ma che stai a dire, ma che, fammi un cucetto, ma che te costa? Questa barbagno riempie sto calice, gli edita sto bicchiere, ritorna da lui, adesso sicuramente, guardi, questo, questo vino sicuramente lei non capirà che cos'è, e vabbè, mi faccia vedere, assaggia, allora, prima di tutto, questo non è vino, questa urina di donna dai 42 ai 44 anni, è incinta, e se non mi assumete, dico pure chi è lo padre, Sì, ha!